Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Perugia-Bettolle è chiuso in direzione Bettolle, lo svincolo di Fogliano della Chiana in entrate uscita. Sulla stradale 1 Aurelia chiuso in entrate uscita, lo svincolo di Follonica Est in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze in via di Barbacane per lavori, divieto di transito tra via Melloni e via della Piazzuolla. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.